Dobbiamo prendere atto di una cosa, c'è stata Tangentopoli, si pensava di uscire da Tangentopoli, si pensava che non ci sarebbe più stato dopo quello che c'era prima, diciamo la verità, adesso è peggio, qualcuno lo faceva osservare, una volta c'era Tangentopoli, ma sostanzialmente le ditte concordavano e concorrevano per i vari appalti. Adesso, in alcuni casi, sono sempre le solite grandi ditte che vincono, sono sempre le solite grandi ditte che vincono. Cosa ti ha detto in Veneto? Che era più bello perché era così? No, non dico niente, io dico semplicemente, si pensava di essere usciti da Tangentopoli, questa è la realtà. Ho detto qualcosa di diverso? Sì, dove una volta appunto le più serie... Ho sbagliato, ho detto allora, si pensava di essere usciti da Tangentopoli, non ne siamo usciti, oggi è cambiato il meccanismo, cioè quello che è mancato, e lo dico, è quello che non si sta facendo, è quello di trovare meccanismi normali per fare i normali appalti, per fare in modo che i nostri imprenditori possano vincere i normali appalti, come succede in tutte le altre parti d'Italia, questa è la realtà. Allora, io direi...